Su Campo Genova tutto da rifare, l'amministrazione Festa incassa un altro duro colpo. La relazione ARPAC riferisce che se da un lato viene esclusa fortunatamente la presenza di amianto nella falda acquifera, esisterebbero però altre sostanze tossiche nel sottosuolo che richiedono un surplus di indagine. Gli ambulanti a questo punto tornano alla carica, si è perso un anno, ora sotterriamo l'ascia di guerra e Festa ripristini subito il mercato. Non vogliamo assolutamente continuare ad inasprire la situazione, il nostro primario interesse è quello di tornare al lavoro, se ci sono le condizioni, ripeto è un appello che rivolgo direttamente all'amministrazione comunale, ragionevole, è quello di tentare di richiudere queste enorme fratture che si è creata, sia con noi, mondo dell'impresa, e sia con la cittadinanza che è venuto meno un servizio importante per quello che è la comunità vellinesa. Non è un mistero che parallelamente centinaia di venditori rimasti a secco per tutto il 2020 stiano affilando le armi per chiedere un maxirisarcimento al comune. In cara alla dose il consigliere d'opposizione Dino Preziosi, se c'è contaminazione oltre la soglia, Festa e Arvogno devono dimettersi e il mercato deve tornare a Piazzale degli Irpini. Quando un amministratore, un dirigente alla città dicono cosa non vere, ammesso che siano cose non vere, dovrebbero dimettersi perché insomma le bugie ai cittadini non si dicono. Ma il problema più grave, a parte aver speso fra analisi e asfalto eccetera circa 300 mila euro su quell'area, ma ancora peggio è che stanno facendo su un'area con il sottosolo inquinato anche i tamponi. E questo è un fatto che a me preoccupa molto, così come preoccupa la totale assenza dell'ASL.